Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video, DJI sta per lanciare sul mercato un altro nuovo drone, nuovo non è nuovo, un altro drone rinnovato, no non è neanche rinnovato, un altro drone riconfezionato, un nuovo DJI Mini SE, questo drone che prende appunto il nome SE in pratica sulla stessa falsa riga di quello che è Apple, come sapete DJI ha sempre seguito il brand Apple sia dal punto di vista del marketing, del packaging, cioè della confezione dei prodotti, agli store, praticamente tutto è sempre stato per quanto riguarda DJI ispirato a Apple e anche adesso per quanto riguarda i suoi prodotti come drone si sta ispirando tantissimo al mondo Apple, in pratica l'abbiamo già visto con il DJI Air 2 che è diventato Air 2S come succede per gli iPhone che nell'anno successivo all'uscita diventano SE, quello che è la versione precedente, o come in questo caso l'arrivo di un nuovo drone chiamato Mini SE, SE che è la sigla che Apple mette ai suoi telefoni, quelli a basso costo, quelli un po' più entry level anche se comunque costano sempre abbastanza, però rispetto ai loro standard di prezzo sono quelli più abbordabili, SE sta per appunto questi prodotti se vogliamo economici ma con caratteristiche comunque importanti ma che mantengono determinate caratteristiche che li rendono economici, cioè magari quello che è la struttura del telefono è una versione vecchia però all'interno viene messa una componentistica nuova, però loro risparmiano ovviamente su quello che è la parte del case, via dicendo perché comunque quella ormai l'hanno già pagata, ripagata e straripagata quindi non gli costa assolutamente più niente, anzi sarebbe qualcosa che loro non utilizzerebbero più invece lo riutilizzano quindi vendono prodotti, però questa soluzione di Apple ha portato comunque Apple a essere anche quello che è e a vendere questi telefoni SE e essere davvero amati da tanti questi telefoni SE, quindi DJI ispirandosi come vi ho detto sempre a quello che è il brand Apple e al marketing Apple, ha deciso di fare questo Mini SE, in pratica dovrebbe essere la versione Mini, quella classica che abbiamo conosciuto quasi un anno e mezzo fa più o meno, in pratica è quella versione però con un nuovo packaging a livello di riconfezionamento e con l'aggiunta o meglio la sostituzione del radiocomando con questo, in poche parole è stato sostituito il radiocomando della prima versione che veramente era una cosa molto economica, era proprio per droni low cost, era un radiocomando non alla DJI per intenderci, era proprio minimal, sì, molto trasportabile ma davvero minimal sia nella qualità che in quello che ci veniva dato, mentre adesso DJI come sapete sia nel Mini 2 sia nell'Air 2 e 2S ha introdotto questo nuovo radiocomando che è sì un po' ingombrante e anche un po' pesante perché ha delle batterie importanti all'interno, però qualità, sensazioni di volo, cioè nell'antenna che è in questa situazione, cioè davvero secondo me top come utilizzo. Quindi il DJI ha fatto questa nuova versione di Mini che dovrebbe essere anche ad un costo davvero abbordabile, è un drone davvero incredibile perché comunque il Mini 1 è sicuramente tanta roba, con un radiocomando così è tanta roba, e va a dar fastidio ai droni low cost che stanno arrivando perché comunque X8 Mini per quanto riguarda Fimi che anche se dovesse costare meno di 300 euro, un po' meno di 300 euro, uno si prende il DJI Mini prima versione e ragazzi è superiore in tante cose, ovviamente gli mancano altre cose, però sa cosa sta comprando a livello di brand e di marchio, poi se uno è interessato a determinate caratteristiche che il Mini non ha, allora dirotterà sul X8. Stessa cosa lo Zino Mini Pro perché quando uscirà, se mai uscirà, se mai lo vedremo, non si sa ancora perché comunque un drone vero e proprio non si è mai visto, a parte questi rendering in 3D, e probabilmente sarà un drone che alla fine costerà, magari scenderà di prezzo tantissimo con i vari coupon e via dicendo, DJI è pronta con un drone che sicuramente va benissimo e a 300 euro è incredibile. Zino Mini Pro è tutto da scoprire, è tutto da vedere se sarà reale e come sarà nella realtà. Quindi ragazzi DJI seguendo le home di Apple sta diciamo rimpastando i suoi prodotti, li diciamo ce li ripropone in varie versioni, modificando qualcosa, cambiando qualcosa e così riesce a rilanciare sempre nuovi prodotti. Poi possiamo discutere che sia una scelta di marketing ben accetta, non è ben accetta, cioè possiamo criticare o non criticare, sta di fatto che DJI ha deciso di seguire appunto questa tipologia di marketing. Scrivetemi nei commenti voi cosa ne pensate, sia di questo Mini SE, se per voi ha senso che esista, se per voi è davvero un drone che per un certo tipo di pubblico è importante che arrivi sul mercato, se invece secondo voi DJI con questi diciamo nuovi nomignoli che aggiunge a quelli precedenti cambiando qualcosa è solo diciamo una presa in giro, non lo so. Ditemi voi nei commenti cosa ne pensate e se questo video vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, anteprime, voli in FPV, stampe 3D. Sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Tegamo Offerte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube che non perdi alcun video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial o una novità. Ciao! Ciao!